Tecniche verticali. Oggi ripercorriamo un po' quali sono le tecniche principali, parlo di tecniche verticali ovviamente, e le facciamo con un vero esperto nel settore, Raffaele Silippo. Ve lo presento subito. Ciao Davide. Ciao. Puoi raccontarci un po' chi sei, magari la tua esperienza con la pesca, così vediamo subito di inquadrarti. Sì. Allora, praticamente esordisco dicendo che la pesca è la mia vita, e lo è veramente di fatto perché ne ho fatto anche una professione. Io vengo da 14 anni di negozio, quindi ho avuto un negozio di pesca per 14 anni. Dopo da 7 anni ho lavorato per diverse multinazionali del settore, e attualmente sono Global Product Manager per la Rapala WMC Corporation, che è una nota, diciamo, azienda, una nota multinazionale di questo settore. Niente, faccio questo lavoro perché adoro la pesca. Non riuscirei a fare questo lavoro se non fossi un pescatore accanito. Quindi il primo motivo sostanzialmente è sempre la passione per la pesca che mi spinge anche nel lavoro, e mi dà quindi l'opportunità di progredire e migliorarmi, anche lavorativamente, devo dire la verità. Quindi un'esperienza sul campo a 360 gradi, direi. Sì, sì, diciamo che ho vissuto e ho visto la pesca da vari punti, da vari angoli, da vari punti di vista. Quelli del pescatore che continuo, dal negoziante, dal venditore, e adesso sono un progettista, quindi adesso creo attrezzi da pesca. È stato un po' quello che ho sempre voluto. Quindi un video molto tecnico oggi. Esploreremo un po' questo campo delle tecniche verticali, che va un po' ad aggiungersi a tutti gli altri video che ho già fatto e che sicuramente farò anche in seguito per altre tecniche di pesca specifiche. E direi di iniziare subito con la presentazione. Principali tecniche verticali. Allora, diciamo che sostanzialmente il campo delle tecniche verticali è veramente ampio, però possiamo dividerlo in cinque categorie che sono, diciamo, anche quelle un po' più attuali. Senz'altro abbiamo l'high speed jigging, quindi diciamo che è un po' la mamma di tutte le tecniche verticali. Lo slow pitch jigging, che negli ultimi dieci anni ha avuto una grande diffusione. Kaburet tie rubber. In Ciku. E poi ci sono questo, io ho voluto chiamarle deep soft bait. So per certo che in tanti lo chiamano slow jigging con la gomma, ma non me ne vogliate, io non riesco a dirlo, perché è una cosa che proprio non va bene. Lo slow jigging è un altro tipo di pesca, non c'entra niente con la gomma. È ancora da coniare questo nome, diciamo che secondo me si adatta un po' di più la pesca con la gomma in generale, non slow jigging con la gomma, che è qualcosa che cozza un po'. No, lo slow jigging è un'altra cosa assolutamente, quindi... È un'altra roba, è un'altra roba. Diciamo che spesso mi capita di vedere che le persone, perché è una tecnica, queste delle tecniche verticali sono tecniche coinvolgenti, quindi c'è anche, fortunatamente, ci sono anche tante persone che si appassionano, si sono appassionate solo negli ultimi anni. Quindi per loro il processo mentale è stato, diciamo, veloce, conoscevano lo slow jigging, adesso semplicemente fanno slow jigging con la gomma, ma adesso poi spiegheremo perché non si può definire slow jigging con la gomma. Beh, ma facciamo una carrellata veloce, proprio dando una definizione, proprio in poche battute, per ogni tecnica che è rappresentata qui. Allora, nel high speed jigging, noi abbiamo praticamente un approccio al... Cosa cambia effettivamente? È il recupero. Quindi nel high speed jigging noi andiamo ad effettuare un recupero molto più veloce della nostra esca. Utilizziamo esche metalliche, quindi l'esca per l'high speed jigging è il jig di metallo, con varie forme, varie grammature, ma è il jig di metallo. Il recupero, come definisce la stessa parola, è high speed, è veloce, un recupero veloce. Contrariamente lo slow pitch jigging, il contrario, la stessa... La definizione ci spiega già la tecnica perché si tratta di slow lento. Slow pitch jigging, quindi è esattamente il contrario dell'high speed jigging. Quindi noi abbiamo un movimento di recupero che è molto più lento. Anche la caduta stessa dell'esca avviene in due modi diversi, perché nell'high speed jigging abbiamo una caduta dell'esca veloce, molto verticale. Nello slow pitch jigging invece si cerca di accentuare la caduta lenta dell'esca. Nel kabura e nel tie rubber invece la tecnica cambia totalmente, quindi l'approccio cambia totalmente. Anche la ricerca del target è totalmente diversa, perché il kabura e il tie rubber è più per pesci grufolatori, più per pagri, ascorfani, gallinelle, per pesci diversi. Quindi pesci veramente di fondale, che vivono a stretto contatto col fondale. Pesci che prediligono cibarsi di gamberi. Infatti poi spiegheremo che il kabura e il tie rubber nascono come imitazione proprio del movimento, del sonoro, del sound del gambero in acqua. Poi abbiamo l'inciku, che è una tecnica bellissima. Anche l'inciku abbastanza adattata, ma sempre catturante. L'inciku ci permette di spaziare, come esca si utilizzano delle esche che si chiamano proprio inciku, adesso poi le vedremo. E ci permette di spaziare, diciamo, con tantissimi tipi di predatori. Ovviamente noi parliamo di predatori, quando parliamo di tecniche verticali, il grosso è comunque la ricerca del predatore. E poi abbiamo questa tecnica, diciamo, che è abbastanza nuova in Europa, ma non in altre parti del mondo, che è questa pesca praticamente con la gomma. L'approccio è sempre un approccio verticale, quindi mandiamo giù in verticale la nostra esca. Il recupero è differente rispetto a un'esca in metallo, differente. In alcuni casi è lineare, dipende un po' dall'esca. Quindi diciamo che l'approccio è unico, le esche in gomma sono uniche come approccio. Spiegheremo anche, diciamo, i limiti di un'esca, di un approccio o di un altro, perché per esempio sicuramente le esche in gomma sono bellissime, però hanno dei limiti, quindi non è che vanno a cannibalizzare le altre tecniche, altrimenti oggi parleremo solo di esche in gomma. Diciamo che ci sono delle batimetriche dove personalmente io voglio anche spiegare che più che... questa non è la Bibbia della pesca, è la mia esperienza della pesca. No, no, ma è questo che noi cerchiamo, infatti. Esatto, nella mia esperienza della pesca io posso dire che in determinate, fino a determinate profondità, su determinati pesci la gomma è devastante, superate determinate profondità, beh, a quel punto bisogna andare con le esche di metallo, perché ci sono dei problemi con la gomma, ma poi magari entreremo nel dettaglio, ma ci sono dei problemi, cioè è limitata da un certo punto di vista. Sì, l'icepeed jigging è considerata da tanti una tecnica morta, secondo me non è così, innanzitutto dobbiamo sempre parlare della nostra visione, che è una visione locale, o di una visione internazionale, sicuramente se andiamo a parlare e dire a un americano che l'icepeed jigging è morto, ci ride in faccia. Diciamo che da noi ha avuto un grande sviluppo, dopodiché per una questione di, la tecnica è abbastanza stancante, non è una tecnica semplice. Ma soprattutto ci vogliono i pesci, io aggiungerei. Ci vogliono i pesci, infatti la prima definizione è che l'icepeed jigging io ho messo, il target principale sono pesci di mezz'acqua, acqua, le ricciole e tono, ok? La ricciola è anche un pesce di profondità, però mediamente, diciamo, definiamoli di mezz'acqua, nel senso che comunque bazzichano la fascia media della nostra colonna d'acqua. Sono tutte e due pesci di taglia, certo con l'icepeed jigging è possibile catturare anche altri pesci, quindi è possibile catturare la cervia, è possibile catturare il dentice, ma io quando ho voluto definire i target sono andato, diciamo, sul core, diciamo, sul grosso delle potenziali prelie. Sicuramente con l'icepeed jigging si pesca di più ricciolettoni. E dirò ancora di più, io credo che nelle tecniche verticali ogni pesce ha la sua tecnica ideale, e quindi vedremo che, per esempio, la ricciola, certo, è possibile catturarla con tante altre tipi, è possibile catturarla con lo slow, è possibile catturarla anche con l'incico e con la gomma, ma se io dovessi definire la tecnica principale per catturare una ricciola è sicuramente l'icepeed jigging. 100%. Non è facile, sicuramente non è facile, bisogna trovare i pesci, c'è tutto un meccanismo, ma senz'altro l'icepeed jigging è la tecnica verticale, ideale per la cattura delle ricciole e dei toni. Soprattutto le ricciole d'Italia. Soprattutto le ricciole. Per esperienza personale ho visto che tante volte è molto più facile catturare una ricciola d'Italia con appunto il jigging veloce piuttosto che addirittura con l'esca viva. Tanti pensano che la traina con l'esca viva sia in assoluto più, diciamo, performante e quella che ti dà i maggiori risultati. Io ho visto delle vere stragi, purtroppo, fatte su delle secche anche profonde, parliamo di 70-80 metri di profondità, che erano normalmente frequentate da banchi di ricciole di anche 50 kg, che sono state letteralmente decimate proprio da questa tecnica. Cioè il jigging, non solo il jigging, io direi jigging associato con un filo molto sottile. perché anche lì le tecniche sono cambiate tanto negli anni e certe cose migliorano, mettiamola così, certe cose fanno migliorare una tecnica di molto, soprattutto a certe profondità e a quel punto diventa veramente molto facile fare dei predatori che in altre situazioni sono veramente molto difficili da fare. Quindi ricciole apatiche che magari non mangiano su nessuna esca viva con un vertical jigging veloce e gli si riesce a dare quella quell'energia e quella voglia proprio di cacciare e ci cadono e si riesce a fare la preda. Sì, gli si innesca un istinto predatorio perché loro vedono questa preda che schizza, che schizza via e spesso gli si innesca questo istinto predatorio. Dobbiamo anche parlare del fatto che ci sono pesci che vanno in branco, quindi spesso entrano anche in competizione alimentare tra di loro. Quindi questa esca che scende giù come un pazzo e risale velocissimo, a volte basta che una sola di queste ricciole si interessi per innescare l'aggressività in tutto il branco. Quindi, senza altro, l'high speed jigging è la tecnica ideale per le ricciole e anche la tecnica ideale per i tonni. È possibile? È possibile pescare i tonni a vertical jigging? È l'ideale perché spesso si possono pescare o spesso i tonni bazzicano anche scalini importanti, di batimetrie importanti e con l'high speed jigging noi possiamo non per forza battere tutta la corona d'acqua ma magari fermarci a metà e ripartire. Le esche che si utilizzano per la ricciola non vanno bene per i tonni perché sulla ricciola mediamente il jig ideale è un jig più lungo mentre per il tonno il tonno predilige di più jig più lenti e scusate non più lenti più corti leggermente più corti quindi vanno utilizzati dei jig appositi per i tonni però è possibile catturarlo. Io auguro a tutti nella vita di avere una mazzata di un tonno in risalita sul vertical jigging perché è un'esperienza che ti ripaga di tanti cappotti è una roba è una roba Io auguro a tutti quelli che succede questa cosa di avere l'attrezzatura giusta in quel momento in mano perché senza altro senza altro perché avere la partenza del tonno è una cosa che può succedere diciamo che a me è successa molto spesso anche con canne di bollentino però ovviamente non si può far nulla in quel caso e quindi andare a tonni stiamo andando a tonni sì sì andare a tonni ma sicuramente nel momento in cui uno fa drifting al tonno e ha il tonno in pastura che è apatico e non mangia magari non abbiamo neanche un'esca viva o ce l'abbiamo ma comunque il tonno un po' la scansa che succede molto spesso questo ma parleremo su un altro video di queste cose qua e aver la possibilità di avere un jig innescare un jig avere la canna adatta per riuscire a pescare dopo il tonno che può essere una canna anche da spinning al tonno per intendersi cioè l'importante è che sia della categoria giusta con un mulinello adatto si può risolvere la giornata di pesca e avere magari quella mezz'oretta barra un'ora di adrenalina pura e bisogna avere anche un po' di fisico perché non è facile soprattutto se il pesce è oltre di 50 kg meglio andare equipaggiati diciamo si quindi se è oltre di 50 kg poi diventa veramente qualcosa epica parliamo un attimo delle attrezzature quali possono essere le attrezzature adatte per questa tecnica quanto riguarda l'icepeed jigging si utilizzano canne molto più corte quasi tutte le tecniche verticali di cui parleremo è possibile utilizzare molinelli da spinning o molinelli rotanti in quasi tutte le tecniche di cui noi parleremo generalmente generalmente io preferisco io uso entrambi nelle tecniche diciamo che possiamo definire un po' più pesanti quando iniziamo a parlare di tecniche verticali leggere prediligo il rotante senza altro il rotante però sull'icepeed vertical jigging sull'icepeed jigging anche un mulinello un buon mulinello a tamburo fisso da spinning fa il suo dovere anzi a volte è preferibile anche per la questione di costi perché trovare un buon mulinello che gestisce una ricciola da spinning è più facile senza altro di trovare un buon mulinello rotante che faccia il suo lavoro cioè io magari posso investire anche la metà del costo anche la metà del prezzo sul mulinello da spinning quindi anche anche questo determina un po' la scelta però se in sombra di dubbio su tutte le tecniche che diventano un po' più leggere e che in cui io devo manovrare l'esca per tanto tempo durante la giornata il mulinello rotante per me è una marcia in più in generale è una marcia in più proprio la posizione la posizione del polso in pesca su un mulinello rotante è molto più lineare che non la posizione nello spinning perché nello spinning mulinello da spinning io vado in giù col polso quindi io affatico tanto quest'area e pescare tante ore è difficile invece con un mulinello rotante io ho questa linearità e mi permette praticamente di pescare molto più facilmente per tanto tempo quindi io mettiamola così devo dire che anche le canne per mulinelli rotanti a livello di tonni o ricciole grosse non è che ce ne siano tantissime in commercio in questo momento mentre sulle canne da spinning assolutamente sì poi anche il peso io così ad occhio posso dire che un mulinello da spinning a parità di potenza mediamente pesa un po' meno rispetto che un mulinello rotante allora se parliamo di taglie piccole la differenza è minima non si nota su taglie grosse sempre parliamo di tonni o ricciole grosse e lì la differenza può essere anche sostanziale poi anche il fatto di come libera il filo in discesa il vertical jig veloce ha bisogno di una caduta veloce dell'artificiale se non siamo in grado di tarare bene il mulinello magari abbiamo paura di fare delle parrucche all'interno del mulinello eccetera sicuramente quello da spinning è il modello migliore in questo caso che ci permette anche di lanciare poi questo è un punto cruciale Davide scusami perché in alcune tecniche diciamo che devo aspettarmi la boccata di più nella fase di recupero dell'esca in altre tecniche che vedremo la boccata viene molto spesso in caduta il mulinello rotante ti permette di vedere la bocca ha una mazza in più sulla caduta ma certo assolutamente perché chi che ne dica anche il miglior mulinello al mondo ha sempre una frizione in discesa perché la bobina segue praticamente il filo che sta scendendo nel mulinello fisso la bobina resta ferma solo il filo va via tu non hai proprio la sensibilità esatto lì entrano altri giochi tant'è che i pescatori più bravi mantengono il filo tra le mani mentre va giù con i mulinelli da spinning per le ricciole perché la ricciola capita che mangi anche in caduta anche nel vertical jigging veloce però diciamo che è più probabile che succeda in altre tecniche assolutamente bene andiamo alla scheda successiva sì slow pitch jigging slow pitch jigging è l'opposto quindi passiamo da un estremo all'altro nulla questi questi pescatori giapponesi tante tecniche verticali nascono in Giappone hanno capito che determinati pesci anche un po' apatici diventavano aggressivi muovendo l'esca in maniera più lenta quindi molto più lenta sia in fase di recupero che in fase di caduta dell'esca quando parlo caduta è sempre praticamente il momento in cui l'esca viene rilasciata e va verso il fondo i jig che si adoperano per lo slow pitch jigging sono totalmente differenti rispetto ai jig che si adoperano nell'high speed jigging cioè magari volendo mostrare un attimo qualcosa questo per dire è un jig da high speed jigging possiamo vedere che il baricentro è tutto nella parte bassa quindi questo andrà giù in questo modo molto molto velocemente nel slow pitch jigging noi lavoriamo invece su jig che si posizionano in questo modo in caduta quindi hanno questo tipo di movimento quindi molto più lento molto molto più lento in caduta questo ci permette di stazionare nell'area diciamo di presenza del pesce molto più tempo in high speed jigging andavamo giù pochi secondi eravamo già 20 metri dal fondo di recupero qui noi per fare 20 metri ci mettiamo tanti secondi quindi il tempo il pesce ha molto più tempo per notare l'esca molto più tempo per per studiarsela e per scegliere il momento della boccata oltretutto oltretutto c'è da grossolanamente molti pesci nel loro modo di attaccare stordiscono l'esca non so a tutti sarà capitato di vedere un pesce morente spesso il pesce morente assume comunque una posizione orizzontale quindi un pesce che cade che è stato stordito da un altro pesce perché nelle fasi dell'attacco spesso anche il sonoro della predazione quindi quando un pesce è un grande denti c'è una ricciola sta aggredendo un branco di pesci spesso ne mangia due ma magari ne stordisce uno, due questi pesci storditi tendono a cadere oppure morti tendono a cadere comunque in un modo orizzontale tant'è che nello slow pitch jigging non mi fate dare percentuali ma spesso le mangiate in caduta sono di più che le mangiate in recupero e lo stesso recupero accenta tanto è stato studiato per accentuare tanto le fasi di caduta dell'esca tant'è che si lavora con diversi tipi di gercate io le chiamo gercate perché vengo un po' dallo spin comunque diversi tipi di movimenti della canna la canna è molto più sottile rispetto a una canna da da high speed jigging da vertical è molto più lunga è più lunga solitamente una canna da high speed jigging lavoriamo sui 5 piedi 5 piedi e 4 5 piedi e 5 difficilmente di più le canne che si adoperno per quanto riguarda lo slow jigging sono circa 6 piedi e 3 6 piedi e 2 quindi sono delle canne più lunghe stiamo parlando di 1,90m 1,85m 1,85m e hanno anche un'azione un po' diversa normalmente certo l'azione è molto più parabolica quindi abbiamo un'azione molto più moderata della canna perché noi non vogliamo che il nostro jig schizzi verso l'alto noi vogliamo che il nostro jig venga accompagnato verso l'alto e poi rilasciato mentre nell'high speed jigging noi vogliamo che il nostro jig schizzi verso l'alto e descriva questo tipo di traiettoria una sorta di destra-sinistra-continuo nello slow pitch noi invece accompagniamo la nostra esca e poi la rilasciamo diciamo che per quanto mi riguarda non me ne vogliono i puristi dell'high speed jigging ma i jig da slow sono più evoluti rispetto ai jig da high speed perché i jig da high speed sono un'evoluzione comunque sono anche arrivati dopo certo sono molto più evoluti quindi diversi jig hanno diversi modi di affondare alcuni sono simmetrici quindi hanno una caduta allineare quando parlo di simmetria non definisco mai praticamente il sopra e il sotto perché quasi tutti i jig i jig da slow sono asimmetrici nel senso di sopra e sotto capiamo qual è il sotto perché ha sempre una pancia dove ha la pancia praticamente il jig si metterà sempre con la pancia verso il fondo vediamo questa definizione un po' un po' così però è abbastanza chiara alcuni sono asimmetrici anche nell'asse quindi hanno magari il lato destro diverso dal lato sinistro magari c'è un po' più di piombo a destra perché sono tutti in piombo a destra rispetto a sinistra questo praticamente gli dà degli sfarfallì diversi delle cadute diverse il mondo dello slow pitch jigging è veramente ampio esistono tantissimi tipi tantissimi tipi di jig per non parlare poi del discorso equilibrio ami perché non si può mettere qualsiasi tipo di amo su qualsiasi tipo di artificiale sul vertical jigging il discorso è già un po' meno tecnico nel senso ci si può permettere di fare delle varianti e fondamentalmente si può perdere ma si perde molto poco nello slow andare a cambiare gli ami mettere ami più voluminosi più pesanti sbilanciati tra gli ami davanti gli ami dietro cambia completamente l'assetto dell'artificiale e in tantissimi casi si può pescare lo scorfano per esempio che è un pesce tra virgolette abbastanza semplice non è un pesce troppo evoluto e quindi quello funziona ma se stiamo pescando identici piuttosto che le ricciole sicuramente l'equilibrio dell'artificiale fa la differenza cioè vuol dire avere una ferrata contro 10 ferrate mi rendo conto che questo è un video un po' complicato anche da seguire perché ci sono tante nozioni ed è veramente difficile metterli in linea e metterli come dire in fila cercheremo di fare un sunto anche dopo alla fine in modo da riprendere gli aspetti più importanti perché ci sono veramente tante cose da vedere anche come va montato l'artificiale cioè sul shock leader con l'anello con il solid ring con lo split ring c'è tutta una serie di cose per far funzionare le esche veramente nel modo corretto senza parlare poi appunto degli spessori dei fili dei tipo di fili del tipo di canna adesso abbiamo fatto una piccola parentesi ma verso la fine del video approfondiremo questo discorso cioè andremo nel dettaglio e cercheremo di capire quali sono le canne giuste e per fare cosa però da qualche parte bisogna iniziare e bisogna fare comunque un discorso generale e niente torniamo alla scheda vediamo se abbiamo ancora qualcosa sì nello slow pitch jig il jig l'esca diventa determinante anche la canna diventa determinante però vi assicuro che l'esca probabilmente lo è di più e il suggerimento è quello sempre di provare 10 metri solitamente 5, 6, 7 metri di visibilità sotto la nostra imbarcazione ce l'abbiamo sempre il suggerimento è quello di provare l'esca appena montata sempre per vedere come sta accadendo se è un'esca che noi immaginiamo debba cadere in maniera simmetrica vediamo se effettivamente è così perché magari potrebbe diversamente potrebbe significare che noi abbiamo montato un asse sbagliato ci sono dei piccoli trucchi se io ho un'esca che è simmetrica come faccio a capirlo guardandola già in negozio già in negozio uno deve immaginare come cadrà quest'esca cioè l'esca che ho in mano l'esca che ho in mano ha la pancia tutta giù ha la pancia tutta giù qui niente su è chiaro che cadrà per forza di pancia è abbastanza simmetrica tra punta e coda quindi non avrà dei sfarfalli pazzi si ha un effetto a chia di barca quindi è abbastanza stabile questa è un'esca che per esempio io uso tanto è abbastanza stabile in corrente perché ha questo effetto a chia però ha un movimento regolare quindi io mi devo aspettare che si metta così in acqua se io vedo che la mia esca tende ad essere così o così significa che sto che ho messo probabilmente degli assi troppo pesanti in coda o in testa il trucchetto della situazione non dimenticate mai che voi in testa avete attaccato il vostro filo quindi l'esca di suo di suo ha comunque una trazione in fase di caduta nella testa questa cosa va sempre leggermente bilanciata sulla coda quindi mettere la stessa misura di assist in testa e in coda su un'esca che è totalmente simmetrica nel suo asse nei suoi lati non è la scelta giusta solitamente su un'esca totalmente simmetrica è meglio mettere degli assist leggermente più piccoli in testa per compensare leggermente anche se non si riesce l'attrito che avrà il nostro filo non sarebbe il contrario più piccoli in coda avere un po' più di peso in testa in modo che tiri giù il filo puoi bilanciarla anche così puoi bilanciarla in tutti e due modi perché comunque il problema del nostro filo che io posso anche mettergli tanto peso ma tende comunque non è una questione di peso è una questione di volume del filo tende comunque di resistenza resistenza è più una questione di resistenza perché la differenza di peso e di grammi io quando immaginate gli assist non immaginate Davide non pensiamo al peso pensiamo all'effetto paragradute dell'assist quindi quindi più piccole esatto un assist più grande in testa mi fa mi crea un effetto paragradute paracadute superiore e tende comunque ad alzarmi la testa quindi una cosa più diciamo idrodinamica in testa mi permette leggermente di bilanciare e questo ah ok quindi non è discorso sul peso ma è un discorso sul volume e sull'attrito che fa l'assist sulle piumette esatto e non pensate che questa del filo sia una cosa stupida no no è assolutamente importantissima chi ha spezzato qualche volta la propria esca giù a 100 metri di profondità e ha ritirato solo il filo sa benissimo di cosa parlo la sola pressione dell'acqua laterale sul filo a volte per i primi 30 metri senza che noi praticamente abbia spezzato abbiamo solo il leader ci dà l'impressione di avere ancora il gig attaccato perché la pressione dell'acqua è tale che che si sente e come in salita l'attrito come lo sentiamo in salita lo sente anche lo subisce anche il gig in discesa un'altra cosa che si può fare tranquillamente che io faccio qualche volta è rilasciare i fili in scia della barca a 4-5 nodi per ristenderli e rimetterli dentro nel mulinello lì non si parla proprio di pressione perché sono in superficie ma è l'attrito che è pazzesco è parecchio questo è anche un mio sistema lo uso tanto quando non posso mantenere i fili nel modo corretto è fondamentale se vogliamo avere tutta l'attrezzatura che funziona in un certo modo quindi bisogna assolutamente avere la cura soprattutto dopo per esempio un combattimento importante anche un combattimento in drifting per esempio se noi abbiamo chiuso la frizione a 10 kg e abbiamo 100 metri di filo caricato a quella a quella pressione è molto meglio scaricare il mulinello e rimetterla su alla pressione giusta che vuol dire 3-4 kg insomma per un mulinello normale dopo parleremo magari faremo un video anche su come si carica e come si deve mantenere il multifibre nylon fluorine fluorocarbon tutte queste cose che hanno bisogno comunque di un minimo di manutenzione se non vogliamo cambiare i fili ogni mese o secondo mese insomma certo assolutamente io andrei avanti con la prossima rischiamo di rimanere arrenati nello slow pitch perché lo slow pitch è talmente vasto che rischia di bloccare e anche quello se ci chiederete qualcosa in più tra i commenti potremmo approfondire anche una tecnica specifica ovviamente abbiamo già in mente la tecnica che andremo comunque ad approfondire ma ne parleremo più avanti cabura 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 e tie rubber innanzitutto la differenza sostanziale in soldoni la differenza tra il cabura e il tie rubber è che è il più ombo scorrevole o no iniziamo la parte della testa dell'esca vediamo se sicuramente qualcosa la parte della testa nel cabura è vincolata al trailer quindi all'octobus alla codina mentre nel tie rubber è svincolata quindi praticamente scorre scorre sul filo questa è una testa di un tie rubber il filo va qui e rispetto al nostro alla nostra esca resta resta svincolata questa è una mentre nel cabura che non credo di avere qui o qualcosa in barca perché diciamo che il tie rubber in questo momento la fa è un po' più evoluta come tecnica rispetto al cabura la fa un pelettino più da padrone almeno per me nel cabura è tutto vincolato quindi praticamente testa e trailer questo qui restano connessi come nasce questa tecnica sempre i giapponesi i giapponesi c'è anche un motivo per cui i giapponesi sono bravissimi in queste tecniche ma magari lo diremo più in là o ne parleremo sicuramente nasce per pescare più in profondità determinati tipi loro l'hanno inventata diciamo più pensando al loro pagro hanno un pesce che è molto simile al nostro pagro e questa tecnica nasce nasce da loro per questo quando io sono un po' un purista quindi io non adiziono la mia esca con con esca morta quindi so che in tanti fanno questa cosa personalmente io penso onestamente che trovarmi costretto ad adizionare l'esca con un esca morta tanto vale fare un buon bolentino fatto bene nel senso che io vedo più catturante un bolentino fatto bene in cui usco l'esca morta che non il mio cabura con con la stisciolina di calamaro però ci sta ci sta magari se sono una persona che preferisce pescare una pesca un po' più dinamica perché sicuramente il cabura è più dinamico con una canna più corta facile posso anche adizionarlo perché pescano i pagri perché pescano i pagri guardando subito quest'esca notiamo che c'è l'esca è diciamo sproporzionata verso il piombo rispetto a quello che gli mettiamo dietro quindi è un'esca per pescare profonda noi sappiamo che i pagri tendono a stare profondi in mediterraneo noi possiamo catturare anche tante altre specie con cabura perché possiamo catturare tranquillamente i scori micidiali sugli scorfani micidiali sulle gallinelle sulla sabbia diciamo che il cabura se dovessi per la mia esperienza lo colloco un po' più sul fondale non proprio roccioso ma sul fondale misto fango ghiaia esatto non proprio sul fondale roccioso meglio di sé su questo fondale spesso vediamo i cabura sono adizionati con questi che io chiamo trailer praticando il trailer come quello della macchina quello che viene dietro praticamente sostanzialmente noi potremmo pescare con un piccolo assortimento di piombi ma con tantissime tipologie di trailer cambiando colore cambiando perché alla fine la testa è importante questa potete vedere per esempio la mia un po' martoriata perché la uso indipendentemente con vari tipi di trailer però quello che fa veramente la differenza è questa è la parte è la parte finale quindi la nostra codina che può essere in vari modi i giapponesi si sono studiati e hanno capito che il sound prodotto nell'acqua da queste due codine che si muovono era molto simile al sound che emette il gambero che scappa che i pagri adorano quindi questa tecnica nasce per loro per la ricerca del pagro loro sono molto stretti per quanto riguarda il tipo di recupero quando parliamo di tie rubber il recupero per loro è un recupero lineare costante il più costante possibile anzi loro pescano con dei mulinelli appositi che si calcolano praticamente il giro di manovella perché loro hanno capito hanno deciso che praticamente il movimento deve essere il recupero deve essere lineare e costante io devo dire la verità sul pagro con un'esca non addizionata effettivamente questo movimento paga quindi un recupero lento e costante paga se però cerchiamo altri pesci quali scorfani gallinelle senz'altro il movimento a chiamiamoli ardente di sega sul più o meno accentuato sul fondo paga di più quindi un movimento un po' più frenetico sul fondo paga sicuramente di più per quanto riguarda il pagro però io vi suggerisco di provare se non ci avete ancora provato perché spesso con le esche si tende a manovrare in maniera frenetica ma non tutte le esche sono tutte diverse le tecniche sono tutte diverse il kabura nasce per un recupero per un recupero lineare anche le teste stesse la dinamica delle teste infatti se voi vedete per esempio questa qui è affusolata in coda e cicciottella un po' nella fase frontale perché questo fa un effetto leggermente paletta gli da questo dondolio sul recupero lineare quindi le teste stesse le gig head stesse nascono per un recupero lineare quindi questa è una cosa magari in più non so che per certo che in Italia non è tanto conosciuta questo modo di recuperare però è da provare sui pagri soprattutto è qualcosa ma per recupero lineare intendi per quanti metri allora solitamente io io personalmente dato che comunque il pagro lo pesco profondo quindi parliamo di 80 metri ad andare 110 120 poi diventa massacrante pescare sopra 120 poi diventa massacrante però diciamo che il mio è dagli 80 ai 120 metri il mio recupero è solitamente una ventina di giri di manovella quindi circa 15-16 metri occhio e croce e poi vado di nuovo giù quindi salgo 15 metri e poi vado di nuovo giù è una tecnica che pratico se ho uno scaroccio lento è meglio quindi contrariamente esatto forse una cosa che ci hanno dimenticati che nello slow pitching l'approccio è perfettamente verticale nel high speed jigging deve essere perfettamente verticale quindi le nostre lenze devono andare giù come un fuso verticale a piombo questa è una tecnica che paga forse di più se abbiamo qualche grado di inclinazione quindi leggermente in diagonale voi immaginate l'esca sul fondo che sale su leggermente in diagonale quindi lo scarroccio è meglio chiaro che se ho uno scarroccio troppo accentuato non potrò non potrò effettuare questo tipo di pesca magari devo trovare il modo per rallentarlo con un'ancora o con una funzione del motore elettrico di prua però questa è una tecnica che paga tanto con la barca in movimento rispetto alle altre due in cui bisogna rigorosamente stare il più fermi possibile beh anche nel volentino quando si va a pagri non parlo di profondità così importanti però avere lo scarroccio in fondale piatto magari di misto fango fango ghiaia fango crostello un certo scarroccio paga di più rispetto che essere perfettamente fermi immobili sì assolutamente sì dopo bisognerà fare una parentesi anche sulla strumentazione elettronica e come va impostato anche l'ecoscandaglio nella ricerca degli hotspot per andare a vedere cioè tutte queste tecniche devono essere sempre associate anche a una ricerca della preda perché andare in mare senza cognizione di causa cioè provare così un po' a casaccio diventa quasi impossibile riuscire a riuscire a riuscire a fare queste queste prede quasi impossibile con queste tecniche insomma secondo me l'ecoscandaglio è sempre importante in marca ma nelle tecniche verticali è il tuo miglior amico io posso aggiungere che anche il discorso della mappatura del fondo diventa sostanziale quindi se uno vuole appassionarsi a queste tecniche purtroppo deve fare un investimento anche sulla strumentazione elettronica non è più sufficiente il solo puro ecoscandaglio sì si può fare si può trovare una pietra una piccola secca un relitto e andare a provare a pescare sopra il relitto però per queste tecniche chi ha strumentazione buona la possibilità di fare una mappatura soprattutto anche il motore elettrico di prua ha tante tante possibilità in più di concretizzare la giornata certo certo e tornando e chiudendo il discorso Kabura il suggerimento è quello ritorno di avere varie combinazioni di colore e anche di forma solitamente per quanto riguarda le codine abbiamo due tipologie o queste qua diciamo si chiamano Carley quindi leggermente più arricciate o queste qui che si muovono un po' come le pinne di un subacqueo queste sono le due tipologie principali dopodiché abbiamo svariati colori colori che pagano di più per il pagro sono questi tre ve l'ho preso apposta tutto ciò che tende all'arancio all'arancio è al rosso il verdastro e il bianco questo perché perché come hai detto prima il pagro scambia la nostresca per un gambero un grosso gambero e tutti noi sappiamo che praticamente questi gamberi hanno questo tipo di colorazione a volte sono verdastri un po' arancio a volte tendono al bianco queste sono con la mia esperienza le colorazioni che pagano un po' di più un po' di glow in the dark non guasta mai in tutte le tecniche verticali soprattutto quando sei a parecchio profondo e nel momento in cui mangiano di più i pesci cioè il tramonto all'alba assolutamente nel senso io ho sempre con me esche che hanno qualche particolare glow in the dark perché è fondamentale fa la differenza a volte non tutta l'esca ma qualche piccolo dettaglio fa la differenza chi è abituato a pescare come dicono alcuni con la ciccia attaccata al cabura io gli suggerisco a volte provate collezionate un po' di vari tipi di trailer perché magari le persone comprano un'esca e si tengono quel colore per sempre in alcuni casi il colore è determinante prima prima di passare a innescare la vostra esca con calamari o altre cose provate magari a cambiare colore perché spesso può innescare l'attività predatoria e sicuramente è un po' più è un po' più particolare personalmente è più gratificante e catturare senza senza innesco altrimenti ripeto io ci vado di volentino non così profondo ma ci vado di volentino in cico in cico in cico una tecnica simile ma diversa nel senso che partirei dall'esca in cico è il nome proprio dell'esca anche qui si parla di un assemblaggio di due elementi quindi una parte che ci serve per andare giù e una parte che ci serve un po' più per catturare quindi diciamo che quando parliamo di in cico questo è un in cico che io uso in grande profondità molto pesante però abbiamo due elementi una parte metallica e una parte che in questo caso è nel 99% dei casi un octopus il movimento dell'in cico è molto molto sinuoso il movimento in acqua è molto molto particolare quindi ha questo tipo di dondolio per cosa viene scambiato io vi dico la verità non lo so c'è chi parla di un calamaro c'è chi parla di altre che sono soltanto posso soltanto dirvi che determinate specie quale la ricciola scusate non la ricciola il dentice la cernia la cernia soprattutto adorano gli in cico adorano gli in cico anche lo scorfano per mia esperienza assolutamente scusami lo scorfano ho dimenticato il principe dell'in cico probabilmente quello è proprio il primo il number one il principe dell'in cico l'in cico lavora benissimo su fondo quindi nei primi dieci metri d'acqua io personalmente nella mia esperienza io lo lavoro eccezione fatta a posti particolari in cui so che magari c'è una caduta diversa i primi dieci metri d'acqua quindi io lo faccio andare sul fondo e lo faccio risalire per una decina di metri che tipo di movimento io ho visto vari video tante persone lo muovono in modi diversi tante persone catturano in modi diversi io devo dire la verità mi è stato insegnato da un mio ex collega che io ripeto veramente molto bravo e io lo muovo in maniera lineare in maniera lineare in maniera abbastanza rotonda con la mia canna così fanno anche i giapponesi e devo dire che mi ha dato soddisfazione questo recupero abbastanza di canna è un recupero il recupero dell'incicu è qualcosa di difficile non è una roba facile da fare vuole un movimento regolare la nostra esca deve danzare quindi dobbiamo dare alla canna e al mulinello ci serve anche una canna giusta che ci faccia il nostro lavoro un movimento abbastanza lineare ma sempre batto sul fondo vado su un poco torno giù batto sul fondo vado su un poco torno giù adesso ti dirò la mia esperienza personale con l'incicu che ho pescato tantissimo con l'incicu è una delle tecniche che prediligo di più il movimento è importantissimo ma c'è ancora una cosa più importante del movimento in assoluto la più importante è stare fermi tu devi fare due tre movimenti andare vicino al fondo alza toccare anche il fondo se vuoi alzare l'incicu di 10 centimetri barra 15 20 centimetri e rimanere fermo anche per 5 7 secondi di più non serve però tra i 5 e i 7 secondi si ha un numero altissimo di ferrate molto di più che mantenendo l'incicu sempre in movimento io posso dire se dovessi dire un numero il 70% almeno delle ferrate ce le ho con l'artificiale fermo vicino al fondo non appoggiato al fondo sollevato dal fondo molto vicino al fondo quindi faccio sollevare l'incicu anche di 2 3 5 metri lo ricalo giù lo muovo ancora per 30 centimetri dopodiché rimango fermo in attesa con la canna perfettamente ferma e in quei momenti di solito l'attacco nei primi 2 3 4 secondi mediamente può avvenire anche dopo 5 6 secondi dopo conviene comunque riprendere il movimento che si è fatto prima senz'altro Davide questo è un bel punto perché è comune anche ad altre tecniche mi capita anche in altre tecniche che il momento di stasi per qualche secondo io a volte lo forzo anche è un momento eccezionale con il ciclo ancora di più perché io posso immaginare il tuo gig fermo sul fondo noi abbiamo l'octopus che lavora in quel momento cioè noi pensiamo di stare fermi ma l'octopus sta lavorando tant'è che l'octopus diventa determinante in questa tecnica ripeto noi potremmo pescare noi potremmo pescare con una manciata veramente 3-4 3-4 corpi ma tanti diversi octopus perché fa una differenza a volte cambiando la giornata io ho sempre io ho la mia scatolina con tutti gli octopus di mille marche e continuo a comprarle quando vado in qualche negozio in giro per il mondo trovo qualche colorazione strana continuo a comprarle perché questo fa la differenza ma anche il piacere di costruirsi da solo il proprio artificiale anche io me ne sono fatti tantissimi a casa di montature eccetera e sull'incicu paga tantissimo perché proprio ci sono momenti della giornata o periodi in cui va tanto il nero dopo magari per un periodo va di più il rosso a volte va anche molto il verde cioè cambiano davvero tanto e bisogna avere sempre un equilibrio sui pesi perché esatto anch'io ne ho un sacco verdi e neri anche sono tra i miei preferiti occhi sempre luminescenti però quella deve essere una costanza su questo ci tengo questo ci tengo a dire octopus di qualità e purtroppo non sono non sono tante le aziende che fanno octopus di qualità io non voglio fare pubblicità a nessuno non parlo neanche dei miei prodotti ma sono due secondo me sono due barra forse tre le aziende che fanno octopus di qualità quindi non state lì a comprare schifezze perché valgono quello che costa l'octopus ci vogliono quelli belli quelli fatti no perché l'octopus che dopo fa il 90% del lavoro giù il piombo potrebbe essere anche un pezzo di ferro che non gli interessa niente a nessuno e un'altra cosa gli ami anche questo c'è tutto un discorso dietro perché voi dovete immaginare che questi pesci quando vanno a attaccare la nostra esca non vanno come la ricciola o il tonno a prendersi l'esca ma fanno un risucchio cioè risucchiano il nostro polpetto il nostro octopus in bocca che contiene anche gli ami se gli ami sono troppo pesanti col filo troppo grosso perché magari uno ha paura anche di perdere i pesci o anche se utilizza degli assist dei multifibri troppo spessi troppo rigidi perdi tantissime tantissime mangiate perché il pesce non ce la fa ad aspirarli invece deve essere proprio una struttura molto molto leggera ma si vede subito in acqua quando un artificiale è costruito bene e usa prodotti buoni rispetto a un artificiale scadente economico che magari uno dice sì è invincibile indistruttibile io ho visto artificiali montati con ami in inox cioè una cosa l'inox è pesantissimo non si può utilizzare l'inox per queste tecniche di pesca ma per nessuna assist è vero gli ami diventano infinitamente diciamo non si rovinano mai non andranno ad ossidarsi ma perderemo tantissime ferrate tantissime occasioni invece per riuscire a fare invece i pesci come bisognerebbe fare ecco sì questo è un punto particolare perché le persone spesso dicono no ma io con questi ami non ho avuto nessun problema ho preso un sacco di pesce sì perché tu non conosci i pesci che non ti hanno mai mangiato a causa di quei ami o che tu non hai neanche sentito in canna a causa di quei ami le persone non se lo fanno questo tipo di ragionamento ma dovrebbe io spesso preferisco estremizzare la cosa cioè io dico va bene vado un po' più estremo per il light e poi me la gioco e poi me la gioco però almeno sento la mangiata ho la mangiata hai la mangiata poi me la giocherò il recupero poi si pensa ma andare sempre sovradimensionati tu ti tagli già un sacco di chance da solo in partenza assolutamente per quanto riguarda le cane da in circo sono delle canne che noi nel mercato in Europa ne definiamo un po' da light jigging un po' diverse sono delle canne lunghezza simile a quelle da slow però hanno un'azione leggermente più fast ma sempre sempre comunque leggere quindi leggere per un'azione pronta ma sicuramente non va bene la canna da slow jigging per fare in circo perché è un po' troppo lenta devo dire la verità che ci sono in circo di ultima generazione ma non soltanto di ultima generazione sono degli in circo diversi che prediligono un'azione slow hanno fatto un mix praticamente un mix tra il classico in circo il peso dell'in circo con gli slow pitch quindi è nato fuori un ibrido a quel punto magari possiamo anche utilizzare una canna da slow pitch però generalmente la canna da in circo è leggermente più pronta nella risposta rispetto a una canna da slow adesso andiamo nella zona calda diciamo chiamiamola così sicuramente perché è la tecnica del momento la tecnica del momento è che si sa veramente poco in questo momento di questa tecnica perché io vedo tanti esperimenti tante cose però in realtà è una tecnica che è abbastanza nuova e secondo me le persone preparate su questa tecnica sono veramente poche io ne ho sentite veramente tante cioè tanti utilizzano queste esche anche come se fossero degli slow ma non è siamo completamente fuori strada sì è un'altra cosa io sono dell'idea che abbiamo appena appena iniziato da noi in Europa a parlare di tecnica di gomma per quanto riguarda le tecniche verticale siamo veramente agli inizi la fortuna è che in altre parti del mondo invece sono un po' più avanti da questo punto di vista quindi uno magari si può pure chiedere cosa fanno dall'altra parte del mondo perché è un modo di crescere cioè io spesso mi faccio questa domanda possibile che noi siamo i primi ogni volta non è proprio così spesso sono tecniche che già vengono adoperate in modo diverso in altre parti del mondo la prima cosa che voglio dire è che sicuramente non possiamo parlare di srugini per un paio di motivi principali uno perché l'azione nello slow jigging è l'azione che determina il nome stesso della tecnica quindi noi parliamo di questa azione slow, lenta movimento lento dell'esca e della canna ma comunque è sempre un movimento cadenziato è una sorta di sale e scende noi andiamo su scendiamo giù andiamo giù andiamo su scendiamo giù come possiamo vedere tutti abbiamo imparato anche dai vari video che arrivano da tutte le parti d'Europa non è una cosa tipica delle gomme non è un movimento tipico delle gomme quindi sicuramente non parliamo di slow non abbiamo gli assist non abbiamo gli assist che questo fa la differenza nello slow jigging noi possiamo utilizzare questa tipologia di canne per pescare grazie all'astis che è stato spiegato poco fa da Davide i pesci creano una depressione quando aprono la bocca aumentano il volume all'interno non c'è non c'è acqua non c'è niente quindi nell'ora aprire la bocca aumentano il volume si crea una depressione interna che tira dentro tutto l'assist è studiato per andare in bocca al pesce in automatico deve essere leggero che va in bocca al pesce questo non avviene con le gomme le gomme sono mediamente innescate con monoami si fanno anche dei braccioli da inserire all'interno dei long arm da inserire all'interno quasi sempre si tratta di ami a volte qualcuno inserisce anche degli assist ma non lavorano come un assist che esiste su un gig da slow quindi per questo per definizione non possiamo definirla mostra una di queste esche così anche il pubblico io mostro la più popolare perché è da qui è da queste esche grazie a questo lavoro di questi ragazzi spagnoli che tutti si sono appassionati tutti si sono appassionati a questa tecnica grazie a quest'esca qui adesso ne parleremo anche di quest'esca è un'esca che è stata inventata in Spagna questi ragazzi sono in gamba per quanto mi riguarda sono degli ottimi pescatori si vede che l'esca è stata progettata da un pescatore non sempre è così non sempre è così a volte purtroppo ci sono delle esche che ahimè servono solo ad acquistare a vendere a vendere non tanto a pescare questa è un'esca studiata è un'esca che io percepisco che praticamente una persona normale pensa che sia il potere imitativo dell'esca perché come vediamo si tratta di un'imitazione di un calamaro ok molti pensano che un pesce si faccia fregare da un'imitazione di un calamaro adesso io non me ne voglia nessuno ma noi siamo abbastanza esperti nella traina con il vivo in Italia e conosciamo tutti la differenza tra un calamaro congelato un calamaro vivo un calamaro morto la differenza di resa in pesca adesso io vi chiedo ma voi veramente pensate che un dentice che riesce a riconoscere se il vostro calamaro è vivo o morto se è fresco o no pensi che questa roba qui sia un calamaro io non credo questa è un'esca molto anche mia moglie che non ha l'esperienza del dentice mettiamola così sarebbe in grado di dire che quello non è un calamaro questa è un'esca ripeto ripeto perché non voglio essere frainteso anche perché Davide lavorando nel settore non voglio essere frainteso questa è un'esca eccezionale no eccezionale l'hai fatta catturantissima catturantissima i ragazzi sono in gambissima ma non è un calamaro cattura per altre cose e l'imitazione di un calamaro ci sta sono altre le cose che determinano diciamo che fanno scattare distinto diciamo che quasi tutte le esche quelle che abbiamo visto oggi non sono rappresentative cioè non sono qualcosa che simulano cioè simulano un pesce per determinati fattori ma sicuramente non dal punto di vista estetico perché anche gli inciku piuttosto che i kabura piuttosto che tutte le altre esche che abbiamo visto i vertical anche lì il vertical non imita il pesce potrà imitare il movimento del pesce la vibrazione del pesce noi dobbiamo ricordarci che il pesce non usa i sensi come usiamo noi cioè lui per esempio usa tantissimo la linea laterale che noi non possiamo neanche immaginare come funziona perché non ce l'abbiamo non l'abbiamo mai avuta ma la linea laterale svolge un'azione incredibile sui pesci proprio dal punto di vista della predazione e quindi sono gli studi fatti da tecnici e persone che studiano questa cosa da sempre che trovano degli elementi che fanno scaturire all'interno del pesce questo istinto che lo fa predare e posso pensare come esempio al gatto con la pallina cioè quando uno ha un gatto a casa e gli butta una pallina o gli punta una luce si vedono tanti video anche con la luce laser che fanno correre questi gatti avanti e indietro in quel momento il gatto non vuole giocare cioè poche volte è una situazione di gioco lì è proprio una questione istintiva il gatto se ha qualcosa vicino alla zampa che si muove istintivamente lo ferma e dopo ci ragiona sopra se mangiarlo non mangiarlo se serve non serve ma è l'istinto che entra in gioco lì parliamo di un'evoluzione di milioni di anni per quello che riguarda i nostri pesci che ormai ha impresso nel DNA tutto ciò che si muove o che emette determinate vibrazioni mediamente normalmente è commestibile e ti permette di sopravvivere in un ambiente l'ambiente marino che è uno degli ambienti più tremendi al mondo cioè se uno pensa che veramente lì tutto quello che è più grande cerca di mangiare quello che è più piccolo già capisce che tipo di ambiente deve essere non è proprio una passeggiata vivere là mettiamola così giorno notte tramonto tutti a parte i pescatori che dopo stanno ancora sopra gli altri e che ci mettono anche del suo ma anche far la vita della sardina penso che non sia proprio il top ecco quindi questi artificiali vanno sempre valutati in un certo modo e non solo dal punto di vista estetico possiamo fare dei discorsi sui colori possiamo fare discorsi su degli elementi particolari dell'artificiale ma qua parliamo soprattutto di suoni di vibrazioni che noi non riusciremo neanche mai a percepire perché non siamo fatti per avere questi sensi e riuscire quindi a valutare in qualche modo queste cose che riescono a essere espresse da questi artificiali certo 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 e infatti e infatti è questo cioè questo è un artificiale che emette molte guardate qui molte vibrazioni con queste godine che sono anche qualcosa di diverso a quello che si era visto in giro quindi abbiamo queste queste alette che vibrano abbiamo sicuramente il movimento stesso dell'artificiale perché è una grande io posso definire una grande stick bay quindi una grande esca dritta già di suo fa un gran bel movimento che piace ai pesci abbiamo altre vibrazioni dalle codine questo determina l'attacco in sé per sé non le fattezze dell'artificiale che a noi sembra un calamaro no io aggiungerei io aggiungerei tutte queste cose associate ai nostri movimenti che sono fondamentali senza altro anche per anche per questo motivo la canna diventa importante senza sicuramente filo sicuramente nodi tutto questo benissimo shock leader perfetto ma perché diamo così importanza in queste tecniche soprattutto alla canna perché la canna interagisce in un modo diretto con l'artificiale molto di più di quello che riusciamo a fare noi col movimento delle nostre mani è l'investimento che bisogna fare oltre che avere dei bei artificiali delle belle canne è proprio imparare ad utilizzare e avere i movimenti corretti io vi posso dire anche qui proprio per esperienza diretta che senza esagerare l'80% dei pescatori almeno quelli pescatori con cui sono andato a pescare io non sono in grado di manovrare nel modo corretto gli artificiali in pesca ci sono pescatori che invece sanno manovrarli e vi posso dire che il rateo di catture è triplo quadruplo cioè la differenza nel saper usare bene la canna magari con un artificiale più scadente però saper usare bene la canna far muovere nel modo corretto l'artificiale nell'acqua è il 70 l'80% poi è chiaro che ci sono delle situazioni parlavamo nel backstage prima proprio con Raffaele per fortuna la pesca in certi momenti ti regala sempre l'emozione di prendere un bel pesce anche se sei senza un'esca giusta sei in un posto sbagliato non hai esperienza però ogni tanto questo succede per fortuna e quindi tutti possono avere la possibilità di catturare un bel pesce nessuno escluso perché succedono delle cose pazzesche io ho visto San Pietri di 3 kg presi sulla Totanara che uno stava cercando di pescare i calamari quindi è ovvio che questo esiste e esisterà sempre ripeto per fortuna però se vogliamo massimizzare se vogliamo divertirci andare anche nella parte tecnica e andare un po' oltre che solo calare un'esca e tenerla ferma o muoverla bisogna investire anche imparare a usare le esche le canne gli strumenti a bordo dobbiamo capire che questo sport la pesca sportiva entra in un discorso un po' più ampio che è solo il fatto di dover andare a prendere dei pesci bisogna avere la passione per il mare la cura per lo stock ittico perché anche lì con queste tecniche si riescono a fare veramente delle mattanze però io non concepisco quelle persone che vanno fuori e che non si fermano alla prima ricciola o al primo scorfano io ho capito eh ma sono uscito tante volte non ho pescato niente sì ma se tutti ragioniamo in questo modo ogni volta che riusciamo a trovare l'hot spot giusto lo massacriamo cioè veramente in veramente poco tempo toglieremo la possibilità di andare a trovare andare a pescare queste cose anche le nostre prossime generazioni mio figlio i vostri figli cioè i nipoti bisogna entrare un po' nella cultura come stanno già facendo i pescatori del freshwater che è quella di salvaguardare anche lo stock ittico perché in fondo noi non spendiamo tutte queste decine di migliaia di euro per portare a casa tre pesci non ci credo noi peschiamo spendiamo queste decine di migliaia di euro perché siamo degli sportivi e vogliamo apprezzare e cercare di trovare il lato bello di questa pesca e non vuol dire pescare più pesci e magari anche solo rilasciarli perché tante volte certi pesci soprattutto sappiamo che una volta rilasciati hanno poche possibilità di sopravvivere bisogna avere la forza e il coraggio di dire oggi ho fatto un bel carniere sono arrivato a una quota decente ho fatto un bel pesce è inutile insistere torniamo a casa e andiamo a raccontare qual è la nostra è stata la nostra avventura e magari cerchiamo di specializzarsi fare qualcos'altro insomma poi è chiaro se uno sta pescando gli sgombri può pescarne anche 3 4 5 chili 7 chili e il danno che va fatto all'ambiente è tutto sommato non voglio dire minimo però insomma ha un altro peso rispetto pesci che ci mettono 20 30 40 50 anni a crescere cioè le cernie bianche bisogna cercare un po' di salvaguardarle con queste tecniche la cernia la cernia bianca ci cade come un pollo chiamola così però è giusto andarle a cacciare in questo modo cioè farne 2 3 o 1 alla settimana cioè stiamo parlando di pesci che hanno un sacco di anni come sfondi una porta lo sai perché ne abbiamo parlato sfondi una porta aperta da questo punto di vista perché a volte su determinati tipi di pesci queste tecniche diventano devastanti la cernia bianca come appena menzionato è una di queste anche lo scorfano anche lo scorfano basta aprire un po' qualsiasi social per vedere ripetute fotografie di cernia bianca anche di mole catturate io non c'è non voglio giudicare nessuno non voglio giudicare nessuno le cerni in particolare ci sono delle abilità nella cattura della cernia una determinazione lì il luogo personalmente è più importante che non le capacità del pescatore di far mangiare il pesce perché parliamo di un pesce diverso la cernia diciamo che una volta che l'hai trovata hai fatto il 90% del tuo lavoro anche perché noi ormai con i nostri strumenti hai capito che lì c'hai magari avuto una mangiata ti prendi il tuo punto e casa sua e casa sua ci ritornerai se non è la pescata successiva in due o tre volte tu questa cernia la fai mangiare quindi quello che voglio dire è che non è una tecnica difficilissima quella delle cernie però va fatta va ponderata va ponderata perché si vanno a prendere dei riproduttori si vanno a prendere pesci che hanno determinata età in questo momento non ce ne accorgiamo perché diciamo c'è stato proprio un escalation di queste catture di cernie bianche grazie a queste tecniche grazie alla gomma grazie alla gomma perché è perfetta è perfetta per pescare per pescare le cernie bianche si sono sempre pescate ma adesso basta aprire un social per capire quante più cernie bianche si riescono a catturare grazie alla gomma e non è che ci siano tante più cernie bianche in più in mare esatto io mi aspetto nei prossimi anni io mi aspetto nei prossimi anni comunque che lo stock di cernie bianche ne risenta è una cosa è una cosa è una cosa ma arrivata io quello che dico è regoliamoci ragazzi regoliamo lo faccio anch'io diamoci una regolata perché perché tanto ne andiamo a pescare per l'emozione se tu chiedi Davide perché peschiamo è l'emozione che cerchiamo non è ma assolutamente l'adrenalina è l'emozione quello che cerchiamo comunque tornando alla nostra tecnica ci sono vari tipi di gomme quindi mi rialaccio al discorso di Davide non possiamo muovere perché spesso mi si chiede come devo muovere queste beledette gomme ragazzi ogni gomma ogni esca ha il suo movimento ideale mentre mi è più facile parlarvi del movimento di esca quali l'incirco perché il concetto dell'esca è similare quindi abbiamo sempre un piombo e un octocus il kabura la stessa identica cosa nello slow bene o male e quello anche se anche lo slow ha tanti tipi di movimenti nelle gomme noi abbiamo tipologie diverse cioè sono proprio passatemi il termine parliamo di specie diverse razze diverse noi abbiamo esche di questo tipo che posso definire shad quindi corpi affusolati abbiamo come abbiamo già detto imitazioni di calamaro che non è un calamaro però tutto quello che vogliamo che lavorerà diversamente abbiamo esche stick quindi senza appendici senza niente ci sono tanti tipi di esche quindi non posso pensare che questo vada a mosso esattamente come muovo questo è chiaro che io dovrò capire il movimento ideale per uno il movimento ideale per l'altro come faccio a ottenere questo risultato pescando pescando spesso conviene non cambiare tanto le proprie esche magari selezionare due o tre tipologie ma quando parlo di esche io non parlo di un'esche in particolare nome e cognome questa è la marca X bla 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 tutte le tipologie di tutte le esche che hanno questa conformazione del corpo si potranno muovere in un modo similare quindi non è una questione di esche intesa come esattamente l'esca specifica per marca per modello e per tipologia per famiglia di esche queste oggi da oggi le possiamo battezzare imitazioni di calamaro perché hanno totalmente delle vibrazioni diverse che non si erano viste prima nel mondo della pesca qui abbiamo una codina una coda a paddle quindi si muoverà in questo modo destra a sinistra destra a sinistra quindi ideale per quanto mi riguarda per determinati tipi di recupero magari un po' più lineare senza tante cercate per quanto per esempio questa che ho in mano che è una delle mie esche preferite mantiene è molto longilinea quindi questa esca gradisce anche le cercate dell'esca se però io cambio e vado per esempio su un'esca di questo tipo in cui ho un paddle molto più accentuato sicuramente questa tipologia di esche non gradirà tanto la cercata come questa esca qui quindi io cosa devo capire devo capire in base al corpo dell'esca che un'esca di questo tipo va recuperata più lineare e lascio fare tutto all'esca lascio fare tutto alla codina che comunque mette tanto sound in acqua tante vibrazioni e di su è molto catturante un'esca di questo tipo è un'esca diciamo un po' più ibrida che io posso anche dare qualche cercata posso anche animare in maniera più veloce un'esca di questo tipo è un'esca che dà il meglio di sé recuperata anche un po' più veloce perché noi dobbiamo trovare la giusta velocità per far muovere l'arma letale di quest'esca secondo me lasciando operare il corpo dell'esca sono sicuramente le alette quindi noi dobbiamo trovare la giusta velocità per far muovere le alette nel giusto modo aiutatevi sotto barca fate delle prove vanno fatte delle prove aiutatevi sotto barca provate imitate il recupero dell'esca sotto barca e vedrete che quest'esca lavora bene a determinate velocità male ad altre troppo lento non lavora troppo veloce non lavora bene quindi questo si matura soltanto con un po' dell'esperienza e con la voglia di imparare di studiare perché se noi invece pensiamo che Raffaele qual è il recupero per quest'esca ok lineare e tutte le gomme vadano tirate lineare abbiamo sbagliato non è possibile non è possibile io spesso definisco l'esca come degli utensili come l'utensile di un non so dentro in un ferramenta il cacciavite philips serve a fare una cosa il cacciavite piatto serve a fare un'altra cosa sono tutti e due cacciaviti ma non li posso usare nello stesso modo c'è la pinza c'è la tenaia io la vedo così tutte e due sono utensili ma vanno adoperati in modo diverso quindi tornando al discorso iniziale di Davide la combinazione movimento canna ed esca sono fondamentali dopodiché la canna da slow perché non si può chiamare slow perché con lo slow abbiamo gli assist che mi aiutano a ferrare un pesce 60 metri giù 50 metri giù qui abbiamo un mono amo spesso due perché se ne mettono due c'è chi le mette in coda a me non piace tanto perché sempre per l'effetto io ho imparato questa cosa che fa un effetto paragadute e mi irrigidisce la parte della coda quindi io non non sono solito mettere ami in coda però qui si tratta sempre di ami l'amo pretende una ferrata quindi l'amo singolo per forza di cose ci obbliga a ferrare e ferrare 50 metri 60 metri giù con la pressione dell'acqua la corrente non è una cosa che noi possiamo effettuare con una canna da slow ok anche con le canne da slow prendiamo questi pesci sì se mi mangio una cernia che inghiotte tutta l'esca che inghiotte tutta l'esca poveraccia sì a lama da sola non sarò in grado di slamarla questa benedetta esca questa benedetta cernia cioè è più probabile che io se riesco a vincerla nel combattimento e faccia che venga su ma se mi mangia un dentice che bastardissimo mi morde mi morde in testa dove vede gli occhi e va a mordere lì io non ho assist non ho niente vado lo devo ferrare quando c'ha l'amo lo devo ferrare certamente non posso farlo con una canna troppo parabolica qual è la canna ideale? non esiste sul mercato in questo momento la tecnica è troppo nuova per noi è una tecnica abbastanza locale perché in altri posti la fanno un po' diversa un po' diversamente quindi attualmente c'è qualcosa ma non c'è tanto sul mercato sicuramente però il consiglio che vi do andate se dovete scegliere tra una canna parabolica e morbida e una canna un po' più fronta meglio quella canna meglio la canna pronta quindi cosa che cosa voglio dire voglio dire che tra una canna da slow e una canna da jigging per intenderci da light jigging da in shiku è meglio quella da light jigging non è giusta neanche quella è giusta perché non c'è io adopero faccio un esempio io adopero questa canna qui è una canna per adesso però ho già in programma sto lavorando su un progetto di canne apposite questa è una canna che quantomeno è stata studiata per la gomma in Malesia loro ci pescono delle cerne in acqua bassissima quindi quantomeno ha un'azione non è né troppo fast né troppo morbida è una buona via di mezzo mi trovo abbastanza bene mi rendo conto che non è ancora la canna ideale perché è un po' corta loro adopero solo per le cerne quindi la canna è un po' corta però è una buona via di mezzo comunque il consiglio è non vi dico neanche che non voglio fare marchette a nessuno preferite per la gomma canne un po' più rapide quindi un po' più fast rispetto alle canne morbide da slow e sicuramente dimenticatevi il termine slow jigging con la gomma perché come abbiamo detto non c'entra niente io direi di più direi quasi su tutte le tecniche preferite sempre una canna un po' più fast rispetto a una canna un po' più parabolica soltanto proprio allo slow ci sta la canna parabolica ma anche quello a mio avviso se hai una canna leggermente più rigida ne abbiamo già parlato anche di questo Raffaele alla fine alla lunga guardando un po' i risultati devo dire che secondo me almeno paga di più la canna un po' più fast in quasi tutte le occasioni sì e comunque tornando al io penso che veramente abbiamo poco tempo Davide per parlare delle gomme in modo approfondito perché no ma faremo Raffaele guarda io sono anch'io sono veramente appassionato di questo quindi voglio approfondire questo argomento ma vorrei fare un video proprio specialistico dove andiamo a parlare proprio puntualmente di questo perché ci sono veramente tante tante cose da dire non abbiamo ancora approcciato il discorso dei movimenti della barca come bisognerebbe essere organizzati come si approccia proprio all'hotspot e come si va a fare la ricerca di questo tipo di pesce quindi sono degli argomenti importantissimi ma che secondo me è giusto magari anche metterli tutti insieme su un unico video in cui parleremo proprio di queste di queste esche che sono così particolari che stanno un po' rivoluzionando anche sono un po' la moda ecco mettiamola così del momento da certi punti di vista giustamente da certi punti di vista forse anche dando troppa fiducia solo su un tipo d'esca perché come abbiamo detto prima forse bisognerebbe un po' entrare nell'ottica che ogni preda ha il suo tipo di esca ogni esca ha il suo periodo e ci sono tante cose quindi la possibilità di poter scegliere tra più tecniche tra più esche può essere sicuramente una cosa molto utile molto importante per riuscire a andare a riuscire a recuperare i target che vogliamo fare insomma sì ma banalmente giusto per far capire che non stiamo parlando con la rivoluzione della pesca oppure con la tecnica che ucciderà tutte le altre perché non sarà possibile la gomma comunque paga scotto in alta profondità perché per una miriade di motivi io la ritengo devastante devastante diciamo da da zero perché è possibile pescarci anche a spinning nel sottoposto comunque da zero a 60 65 metri è devastante superate queste batimetriche per quanto mi riguarda altre il metallo è superiore questo perché perché banalmente vi posso dare così banalmente abbiamo parlato tanto della pressione dell'acqua nessuno ci ragiona su questa pressione dell'acqua la pressione dell'acqua è importantissima noi abbiamo una pressione dell'acqua abbiamo un attrito come si può immaginare la codina una codina una codina che mi lavora bene a 20 metri di profondità con determinate pressioni mi lavorerà diversamente a 60 metri con molta più pressione laterale quindi io mi devo aspettare che la mia codina sia leggermente più schiacciata quindi che la mia codina lavori diversamente questo non avviene con un'esca in metallo oltretutto quasi tutte le esche in gomma hanno per concetto un affondamento più lento rispetto a un'esca in metallo perché sono costituite da una parte che serve per l'affondamento quindi la testina che serve per l'affondamento queste i calamari c'è sempre una parte che serve per affondare la testa e poi c'è una parte in gomma questa parte in gomma purtroppo è per sua natura che fa questo effetto paragadute nell'acqua quindi rallenta l'esca ci possiamo possiamo capire da soli che non sarà facile raggiungere profondità impegnative con questa tipologia di esche invece con l'esche in metallo il classico slow pitch l'incico e chi più ne ha ne metta è molto più semplice pescare pescare più profondo quindi è una tecnica molto valida molto molto io l'adoro io l'adoro ho non so quante esche qui ho pieno di gomma di tutti i tipi montata e non perché comunque per adesso noi abbiamo soltanto aperto un pochettino la porta perché stiamo lavorando solo lavorando stiamo pescando solo su esche già rigged cioè già montate che ci arrivano già con gli ami già con tutto montato però quando tu poco poco io arrivo dal freshwater arrivo da tanti anni da ragazzo di freshwater quindi per me la gomma è è casa mia con il black bass è casa mia quando inizio a parlare di gomma parliamo di un mondo quindi adesso noi ci siamo appena appena affacciati lavoriamo soltanto con esche che ci vengono proposte già montate nel momento in cui apriremo un po' di più la nostra mente vedremo che possiamo utilizzare una miriade di forme di gomme diverse di forme di misure diverse perché lavorano benissimo in determinate condizioni esche piccole lavorano benissimo in altre condizioni in cui cerchiamo pesci particolari lavorano bene esche giganti diciamo che per quanto mi diciamo che noi abbiamo appena appena iniziato ad affacciarci in un nuovo universo in un nuovo universo quindi io vi dico di affrontare sempre la pesca con la curiosità con la curiosità di imparare con la curiosità di sperimentare perché non è detto che quello che ci dice l'amico sia per forza la Bibbia non è detto quello che dico io cioè io magari se mi fate la stessa chiamiamola intervista video Davide tra un anno io avrò maturato esperienze diverse visioni diverse e quindi è tutto sempre in evoluzione quindi affrontate la gomma proprio perché la gomma è un mondo ampio con questo con questa voglia di sperimentare perché c'è tanto nella gomma c'è veramente tanto sicuramente ma da tanti punti di vista proprio non solo parlando proprio della mera esca ma proprio a parte la tecnica anche di movimento che è ovvia ma anche sul fatto se utilizzarla in verticale in scarroccio appunto in quali condizioni cioè ci sono veramente troppe variabili e io direi di rimandare il resto al prossimo video al prossimo incontro in cui andremo analizzare meglio quali sono appunto tutto il contesto che sta intorno alla gomma e la gomma magari in un modo un po' più preciso faremo anche degli esempi pratici proveremo a mostrare proprio delle esche anche conosciute per cercare di valutare pro e contro e vedere quali sono le cose migliori che possono essere più le migliori per noi insomma per quello che vogliamo provare noi insomma dare un po' a chi ci segue anche la possibilità di andare in un negozio di pesca e andarsi a scegliere con un po' più di cognizione di causa piuttosto che dire ah il mio amico ha preso un bel pesce con un'esca così magari andiamo lì e possiamo scegliere l'esca con un po' più di tecnica con un po' più di sapere ecco questo penso che sia una cosa abbastanza importante sì ci permette anche di risparmiare i soldini perché riusciamo a capire cosa è adatta a noi e cosa no e poi possiamo anche decidere su cosa spendere cioè se ci conviene spendere su un'esca piuttosto che su una canna piuttosto che sui fili ma è un discorso che come ho detto faremo in un modo molto più preciso sul prossimo video io direi che questo video è arrivato agli sgoccioli siamo a un'ora e mezza quindi io ti ringrazio tantissimo Raffaele è stato un piacere ospitarti qui sul canale e ti ringrazio ancora per tutto quello che ci hai insegnato e mostrato che veramente lo reputo veramente un prodotto di qualità mi raccomando ragazzi per quelli che sono rimasti fino ad ora lasciate un like perché almeno Raffaele se l'è meritato assolutamente e lasciate anche un commento scrivete pure quello che pensate le vostre esperienze e cosa magari vorreste sapere conoscere di più su queste tecniche che vi abbiamo mostrato oggi Raffaele se vuoi salutare anche tu assolutamente grazie a te Davide per questa opportunità io parlo di ciò che mi piace quindi lo faccio con piacere e ti sono grado di farlo sul tuo canale che è un canale che apprezzo tanto non mi perdo non mi perdo un video quindi questa cosa mi losing no no sono io losing va bene a bando adesso le losing vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao ciao